La passione sportiva della folla è degenerata qualche volta negli ultimi anni in forme di protesta e di violenza che dentro e fuori degli stadi hanno toccato punte difficilmente comprensibili. L'esempio forse più clamoroso è la rivolta di Caserta nel 1969. I negozi, gli uffici, le fabbriche sono rimasti chiusi. Per decisione del provveditore sono stati sospesi gli esami di riparazione in alcuni istituti scolastici. Il fermento si è rinnovato in mattinata e nel primo pomeriggio, nonostante gli inviti alla moderazione e l'opera di persuasione svolta dalle autorità, dai dirigenti del sodalizio sportivo e dalla forza pubblica. Si sono formati cortei di tifosi nelle vie del centro, con manifestazioni di intemperanza dinanzi ad edifici pubblici e alla stazione. Tafferugli anche stamattina. Cittadini ed agenti di polizia sono rimasti contusi e feriti, 43 persone complessivamente. I vigili del fuoco sono intervenuti in vari punti della città per principi di incendio rapidamente domati. Si sono avuti ancora in tralci al traffico ferroviario, molti passeggeri hanno trasbordato su Pullman. Intanto è stato affisso un manifesto della giunta comunale per esortare i casertani ad un comportamento più responsabile. Sì, l'ho appena visto e veramente sono rimasto sconcertato, allibito. Non credevo possibile potesse succedere un fatto del genere come quello che sta accadendo in questo momento a Caserta. Noi ci stiamo chiedendo tutti come possa uno sportivo, diciamo uno sportivo, perché il tifoso per noi è soprattutto uno sportivo, il tifoso è un nostro amico. E se succede un fatto del genere per una partita di calcio, perché il nostro è un gioco, noi giochiamo per divertire, pensiamo di divertire oltre a noi stessi, di divertire coloro che vengono ad assisterci. E siamo veramente allibiti, dico, continuo ad insistere su questo aggettivo, perché è quello che mi viene in mente maggiormente. Calma oggi a Caserta. C'è stata una sola manifestazione, un ordinato corteo di tifosi mentre la città riprendeva man mano le sue attività. Una delegazione di sportivi ha chiesto al prefetto di intervenire per il rilascio degli arrestati e dei fermati per le dimostrazioni di ieri. Negli ambienti della questura si apprende che risultano in stato di arresto 99 persone. Altre 51 sono state denunciate a piede libero. Queste le imputazioni, incendio doloso, danneggiamento aggravato, resistenza alla forza pubblica, violenze e lesioni. Continuano le indagini per identificare altri responsabili. Feriti e contusi sono stati dimessi dagli ospedali. Negozi ed uffici hanno riaperto man mano. Il traffico ferroviario si è svolto regolarmente. Tutti hanno ripreso il loro posto di lavoro nelle fabbriche. Nelle scuole sono proseguiti gli esami di riparazione interrotti ieri per le dimostrazioni. Lo sgombero dei detriti nelle strade è incominciato nel pomeriggio e con gli operai hanno collaborato gruppi di cittadini. Proseguiranno domani le verifiche dei tecnici e dei vigili del fuoco agli edifici maggiormente danneggiati. Fino a tarda sera le strade e le piazze del centro di Caserta sono state affollate. L'invito a non coinvolgere la città con le sue più concrete iniziative nelle vicende del campionato è stato raccolto con senso di responsabilità. Anche la squadra di calcio si è allenata oggi. Tuttavia, come è noto, domenica prossima l'incontro con la Ternana non si farà, in attesa che la Commissione di Appello Federale si pronunci sul ricorso della Casertana contro le decisioni della Lega Semiprofessionisti.